buongiorno benvenuti alla resegna stampa di oggi martedì 14 di giugno 2016 siamo in diretta come sempre sette e mezzo un cordiale saluto naturalmente anche chi ci segue un demanda sul sito internet e durante le repliche cominciamo dal santo del giorno oggi è san vediamolo un po vediamo subito sant'eliseo profeta stiamo parlando di un santo che visse nell'ottavo secolo avanti cristo quindi siamo veramente molto in là indietro con gli anni il sole è sorto alle 5 24 e tramonterà le 20 52 il tempo da domani migliora intanto ancora oggi soprattutto più tardi nel corso della mattinata arriverà arriveranno ancora un po di nuvole che si stanno già formando dalla parte di là degli appennini quindi piano piano arriveranno anche di qua avremo comunque precipitazioni infatti vedete la fine mattinata per il pomeriggio rovescio temporali sparsi lungo la fascia collinare e in tempo che migliora il sole che splende su tutta la costa e non solo anche un po su tutta la regione le temperature sono in aumento per la giornata di giovedì ancora tempo buono con cielo sereno poco nuvoloso poi avremo ancora per il resto della settimana tempo soleggiato peggioramento forse nella giornata di domenica e di lunedì tanto così per rovinare il weekend allora ci sono un paio di notizia la prima sicuramente quella che avrete visto anche nel telegiornale di ieri sera alle 20 e 30 occhio alla notizia con è stato il nostro servizio di apertura questa questo questo dramma del dello spaccio di sostanze stupefacenti pensate addirittura davanti alle scuole alle scuole medie davanti alle scuole del centro storico di Fano c'è stata una collaborazione molto importante tra i presidi di questi istituti scolastici e la polizia guidata da Stefano Seretti e ieri c'è arrivata praticamente la notizia che c'era un ragazzetto un ragazzo di 18 anni che faceva un po da tre d'union tra lui e tutte queste manovalanze 13 anni parliamo di ragazzini di 13 anni coinvolti a volte venivano pagati con 50 euro per compiere furti per spacciare sostanze stupefacenti insomma una brutta storia per la quale per fortuna è stata messa a segno e messo a fine tutto quanto perché i presidi erano preoccupati così come i genitori furti e spaccio sgominata una banda qui siamo sul Corriere Adriatico formata da giovani in gran parte minorenni una quarantenne era il committente dei colpi un diciassettenne con quattro complici di soli 14 13 anni derubava i passanti e svaliggiava negozi in centro due quindicenni con la droga altri due si sfidano in motorino questa è l'altra notizia che troverete di spalla l'indagine invece partita da una segnalazione dei dirigenti scolastici come dicevo arrestato un diciottenne per hashish e anfetamina ma di questa notizia la troveremo e la troverete sui giornali questa mattina anche sulle pagine di Fano e del resto del Carlino e del messaggero droga per i ragazzi delle medie i presidi fanno scoprire la gang questa è la notizia sulla pagina del messaggero spaccio di droga vicino alle scuole medie del centro storico l'allarme lanciato dei presidi ha permesso la polizia di smantellare una banda giovanile che arrotondava con i furti sequestrati 5 grammi di hashish e cristalli di anfetamina per 60 grammi un arresto e 5 denunce a piede libero il ricettatore è un romeno di 40 anni due quindicenni segnalati come assuntori lo spaccio avveniva nei vicoli tra la scuola media Gandiglio e la Padalino i dirigenti scolastici si sono insospettiti e hanno dato l'allarme sempre dal messaggero cade con lo scooter per evitare un'auto il sindaco seri finisce al pronto soccorso ha riportato la distorsione di una caviglia e ha dovuto rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Fano per farsi medicare questa è la pagina di Fano andiamo sulle altre aggredita in parrocchia ricorderete la donna che è stata avvicinata dal marito con un coltello una lama di 20 centimetri durante una festa parrocchiale la città è scossa donne vittime di aggressioni due casi in tre giorni ma per il centro antiviolenza in realtà sono molti di più l'uomo ha assalito la moglie con il coltello adesso in cella il prete di Pantano dice grande preoccupazione in tutti noi la responsabile di parla con noi questa associazione si chiama guerra dice arrivano impaurite con i lividi addosso ma hanno timore a denunciare le persone che maltrattano film invece su luciannibali questi sono ultimi giorni di riprese a pesaro la città e la vicenda dell'acido in prima linea nella lotta antiviolenza coppa davis siamo sempre a pesaro in città ricci per la per dice per per noi una vetrina di prestigio da ieri si montano le tribune da 6.000 posti 2.000 di questi saranno poi riutilizzati allo stadio benelli e al campo di rugby e sempre il sindaco ricci insieme a quello di fano seri chiedono una tappa del prossimo giro d'italia è stata presentata ieri la candidatura ufficiale per la centesima edizione della corsa poi ricorderete l'iniziativa di questo conte pinoli che ha detto e ha proposto a tutte le vittime di ingiustizie di ha proposto il suo albergo come per passare qualche giorno in tranquillità e in serenità ebbene questa è un'iniziativa che in tanti dice pinoli stanno seguendo e stanno stanno copiando e questa è una bella cosa attestazioni di stima e offerte da tutta italia ma per ora solo una richiesta di ospitalità è arrivata solo una richiesta di ospitalità poi sempre dal messaggero andiamo avanti con le altre pagine sul nuovo ospedale i referendari vanno dal presidente ceriscioli il comitato fanese che chiede la consultazione popolare per il sal per salvare il santa croce sarà ricevuto oggi in regione ad ancona questa sera invece i gruppi che hanno manifestato in corteo contro fosso sei ore saranno terranno un'assemblea pubblica a pesaro la notizia che il presidente taglionini invece incontra i nuovi sindaci incontrerà i nuovi sindaci eletti nel territorio provinciale tra cui ci sono anche due che già siedono in consiglio provinciale sono omar lavanna di mercatino conca il sindaco di mondolfo nicola barbieri con i quali dice taglionini potremo instaurare una fattiva collaborazione adesso andiamo sul corriere adriatico la pagina di pesaro si apre con i due milioni per proteggere il san bartolo inviata la richiesta alla struttura di missione per finanziamenti dirette ferroenzuola e castel di mezzo sotto la città tra tradizione pontificia e illuminismo di frontiera banca di pesaro presente il volume di brancati benelli sulla realtà del secondo settecento venerdì ci sarà un incontro pubblico la pagina di fano oltre alla cronica che abbiamo già visto in primo piano anche qui la notizia del sindaco che è caduto con lo scooter è finito al pronto soccorso poi sotto divertimenti in spiagge feste musicali semplificato l'iter delle autorizzazioni e poi ancora dal quotidiano delle marche seri succube del partito democratico ora si dimetta è l'invito di fratelli d'italia che in caso si dovesse ricandidare lo appoggerebbe con tutto il suo partito minardi invece indicato come sindaco umbra deve lasciare per statuto il consiglio comunale dubbi sui primari che sono intervenuti al convegno con ceriscioli autorizzati a parlare in un incontro di partito lo abbiamo detto i medici hanno chiesto al presidente di fare questo ospedale di farlo anche in tempi relativamente brevi dalla pagina di fano e valle del cesano da pergola un imbianchino che precipita ferito alle gambe l'incidente in una abitazione a monte vecchio operaio di fossombrone soccorso dal 118 in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza è successo ieri intorno a mezzogiorno a monte vecchio di pergola dove l'operaio di fossombrone stava lavorando in un'abitazione privata poi sotto invece risarcimento istanze al via parliamo della bomba d'acqua che ha colpito marotta stato di calamità le segnalazioni dei danni al comune attenzione fatele entro il 27 di giugno il sindaco ringrazia tutte le persone che hanno contribuito in tre giorni ad affrontare questa emergenza e poi la pagina di senigallia invece del corriere adriatico eccola qua sempre di bomba d'acqua si parla tra i danni del nubifragio di giovedì sera anche la tac fuori uso all'ospedale che sta costringendo le ambulanze a portare i pazienti in altre strutture per eseguire appunto questi esami mentre la fotografia mostra un albero caduto in via rodi sopra un'auto in sosta mentre viene in questa fotografia viene sezionato quest'albero tagliato con la motosega dai vigili del fuoco di arcevia sotto invece l'autocarro che è stato recuperato a marzocca sempre dai vigili del fuoco di senigallia un giovane operaio travolto da un sacco di grano è stato soccorso in una cooperativa di piticchio di arcevia un altro infortunio sul lavoro ieri mattina in un'azienda un giovane operaio residente vicino nella vicina ostra vetere poco dopo le 11 stava lavorando con questi grandi sacchi di grano e erano impilati su due piani uno di questi è caduto e lo ha ferito mentre una cubana sempre dalla cronaca di senigallia una ragazza è stata aggredita dai familiari in via a zuccari la questione è un fidanzamento non voluto un po contrastato in famiglia ad evitare il peggio sono stati alcuni residenti che hanno chiamato la polizia e i carabinieri adesso andiamo invece sul resto del carlino vediamo la pagina di fano anche qui incastrati i piccoli caporali dello spaccio assoldavano 14 anni per pagarsi il fumo è stato arrestato un diciottenne e sono denunciati stati denunciati tre minorenni sequestrate anche anfetamine ci sarebbe la baby gang anche dietro i furti al 26 al baretto dell'arzilla e sotto invece il concerto evento del 19 di luglio a fano De Gregori Francesco De Gregori in concerto in piazza 20 settembre ebbene sono stati pensati bruciati nel senso venduti in un'ora in soli 60 minuti 250 biglietti nella sola prima ora di prevendita raccolta di rifiuti attenzione questa è una notizia che è importante per il vivere quotidiano perché c'è questo sciopero proclamato uno sciopero generale per intera giornata di domani allora il servizio comunica aset non sarà sospeso quindi per aset ci sarà però chiaramente non sanno quanti operai aderiranno quindi tutti quelli che risiedono nel comune di fano san costanzo monte porzo cartoceto fossombrone mondario monte felcino isola del piano serrungarina monte maggiore al metauro saltara sant'ippolito e pergola sappiano che il servizio sarà regolare per l'azienda chiaramente dove attiva la raccolta domiciliare i cittadini sono invitati a depositare i rifiuti come previsto dal calendario però che succede qui c'è il problema non essendo possibile garantire la presenza di tutti gli operatori l'aset chiede di portare come sempre di portare secondo il calendario i rifiuti in strada però se alla sera vedete che sono ancora lì dovete riportarli a casa pensate un po perché perché evidentemente l'operatore ha scioperato e quindi lì non è passato è un po' una roba così all'italiana cioè uno porta i rifiuti poi si deve riportare a casa se la sera non li hanno buona stupidata però comunque questo è l'invito dell'azienda e quindi noi riportiamo quello che è scritto sul giornale il frecciarossa invece da pesero non ferma più e quindi cancellato da domenica trenitalia non ferma più uno dei frecciarossa che da milano vanno ad ancona e ad ancona appunto a milano l'azienda non lo dice trenitalia non lo dice l'azienda definisce solo una scelta economica non lo dice però a nessuno anzi ci fa sopra ci ricama e dice andremo fino a lecce però in realtà salta pesero e quindi è un disservizio non da poco non solo per la città di pesero ma anche per tutti quelli come fanno insomma gabicio e tutti quelli che stanno lì attorno è un treno importante che però puntualmente come succede tutte le estate poi viene soppresso adesso protesterà il sindaco poi arriverà il consigliere poi quello e quell'altro e forse trenitalia lo rimetterà allora è una storia che si ripete sempre tutti gli anni guardate questa fotografia chiudiamo con questa è la città di pesero al benelli le paperelle ce ne sono ce n'erano ieri un sei sei anatre di diversi tipi germani reali eccetera eccetera una fotografia che è stata scattata e inviata al quotidiano che l'ha pubblicata prontamente in prima pagina per dire che che cosa che insomma anche a pesero non è oro tutto quello che luccica nel senso che hanno le loro buche e anche belle grosse che diventano laghi non appena piove e quelli del benelli lo sanno bene perché chi lavora lì sa che quando piove un po' di più poi si formano questi laghetti e questa volta ne hanno approfittato sei paperelle sei anatre è tutto grazie per la rassegna stampa ci vediamo stasera alle 20.30 vi auguro una buona giornata arrivederci grazie a tutti